tutte le ragazze sono diverse alcune sono più intriganti mentre altre sono più beh hai capito e che tu ci credo no queste due ragazze sono sorelle adottive oh guarda ecco l'auto solo perché sei una miliardaria non significa che non puoi girare con un'utilitaria sì questa è la sorella miliardaria ma ehi la famiglia è ciò che conta bentornata a casa ragazza le mie mani sono così sporche oggi devo solo lavarle con del detersivo per piatti ehi ma quanta schiuma che fa che bella pelle pulita cosa stai facendo olivia non sai niente dei prodotti per la cura della pelle prendi tutti questi ne hai più bisogno di me riesco a vedere i tuoi pori da un chilometro di distanza non preoccuparti a ciò che ti serve e questi capelli quando è stata l'ultima volta che ti sei spazzolata i capelli hai bisogno di più aiuto di quanto pensassi non preoccuparti questi ricci saranno belli in pochissimo tempo basterà un po d'aria calda ok mi serve questo molto bene e adesso il trucco ovviamente sei una tipa dalle tonalità pastello direi ma quanto potenziale bellissima uno dei miei lavori migliori ti piace serve ancora qualcosa accidenti wow quanti trattamenti interessanti cavolo sono tornata olivia sei stupenda guarda che curve ora sei assolutamente perfetta ehi cos'è successo mi sto sgonfiando sono così rilassata cos'è questo odore olivia non vedi che sono occupata voglio giocare no aspetta rilassati qui con me ti piacerà affidati questa volta ci sei? dove diavolo siamo? punti che bella brezza la strada è nostra andiamo più veloce puoi toglierla ora oh wow cosa sta facendo quel tipo c'è mancato poco scommetto che potrei farlo anch'io sto arrivando sì io adoro il teatro aspetta dove è andata olivia? posso farlo anche io mentre palleggio vedi? ehi oh no scommetti che salto? sono troppo brava sì potrei farlo per sempre oh che paura guardate come volo gente e adesso? prendi e ora lanciaglielo che cosa? dobbiamo uscire di qui addio dai olivia fai un inchino è finita è stato un grosso errore andiamocene si tutt'uno con la mente e il corpo respira ehi non sapevo ci fossi anche tu quel succo sembra così buono ma voglio qualcosa di più saziante un hamburger sei pazza? allora non devi avere molta fame un'insalata più nutriente ok non è fantastico questo posto? per di qua sei uscita da un bidone della spazzatura ehm non preoccuparti abbiamo tanti soldi beh allora divertitevi wow questo posto è così elegante mi sento come se stessi pranzando a casa di miliardari è tutto così elegante accidenti benvenute signorine prenderò questo per favore una bistecca a cottura media e un'insalata e anche un contorno di verdure wow cos'è tutta questa roba? non so cosa scegliere ehm l'insalata solo un'insalata va bene allora arriva subito io devo andare in bagno che schifo questo è il bagno sembra un castello ci vivrei qui dentro voglio portarne un pochino a casa con me è tutto mio scintillante nessuno se ne accorgerà non si vede nemmeno il cibo è già qui sembra buonissimo ehm Olivia ops eccomi qua che accidenti adoro l'insalata non riesco più a mangiare Satya è tutto tuo se non ti dispiace quel pollo sembra incredibile non la deve avanzare non dovevo mettermi giù in sabita alta ops ricevamo il conto per favore voglio pagare adesso certo wow quanto è lungo il conto non preoccuparti ci penso io meno male perché non ho molto meno male che porto sempre dei contanti puoi tenerti il resto cara aspetta la stavo solo tenendo al sicuro e il resto? oh mio dio dimenticavo questa signorina va bene come vuole ecco tutto quanto va bene non ci torneremo mai più non vengo pagata abbastanza per tutto questo oh salve come suoni bene accidenti beh grazie sono un po' audace non vedi? beh lasciamo perdere fammi vedere se ho una penna tada oh ops quindi non preoccuparti la prendo io che disastro devo andare oh se n'è andato tranquilla ti aiuto io spostati pro ho una lezione più importante da insegnare come si flirta ga oh sì niente occhiali solo baci ok? credo di aver capito anche io e avere i capelli belli aiuta e mostrare sempre quello che avete capito cosa intendo devo fare qualche cambiamento ah ben fatto troppo scintillio ora sei pronta quella è una corda che si dice? ti piace la mia nuova giacca? usciamo ambigua wow magari la prossima come reagiresti se la tua sorellina adottiva fosse una miliardaria? potrebbe essere divertente ricordati di condividere questo video con quegli amici che hanno bisogno di farsi una bella risata iscriviti al nostro canale per altri fantastici contenuti grazie a tutti grazie a tutti